Stiamo aspettando che la conferenza Stato-Regioni decida in merito alle mascherine e qualora non intervenisse il governo, lo faremo noi con ordinanza ad hoc dei sindaci con i quali stiamo interloquendo. Verona e Venezia sono partiti perché sono partiti prima i mercatini e quindi hanno dovuto decidere per tempo. Sembra questione di pochi giorni perché l'obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto sia reintrodotto a Vicenza. Pronto a firmare un'ordinanza ad hoc nel caso non sia la conferenza Stato-Regioni a prevederla per tutte le città. Ordinanza in vista dell'apertura dei mercatini natalizi che a Vicenza sarà il 4 dicembre. La strategia salva natale dell'amministrazione prevede la diffusione in centro storico delle casette proprio per evitare assembramenti in un'unica piazza, quindi mercatino diffuso in piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, esteso anche in Contra Cesare Battisti e Corso Palladio, mentre a Campomarso oltre alla pista di patinaggio ci saranno le due fiere, quella natalizia e quella dell'Epifania. Scelta con duplice valenza, giocare d'anticipo alla luce della crescita dei contagi e dare respiro a cittadini e attività che beneficiano del movimento che anticipa le festività. L'obiettivo è quello di gratificare più di una zona distribuendo le presenze, ma in linea con i parametri di sicurezza sanitaria anti-assembramento. A preoccupare il primo cittadino la crescita dei contagi, per cui si rende necessario l'uso della mascherina anche all'aperto. Credo che l'unica soluzione sia la mascherina in centro, altrimenti dovremmo essere costretti a limitare anche le iniziative natalizie. Siccome stiamo cercando di mantenere per quanto possibile uno stato di normalità in una situazione comunque pandemica che sta riprendendo forza anche dal punto di vista dei contagi, dobbiamo fare in modo comunque di tutelare via prioritaria la salute pubblica dei cittadini attraverso l'utilizzo anche della mascherina e il distanziamento laddove possibile.